E' stata posta sotto sequestro dai carabinieri l'area di via Filettine a Pagani interessata da un incendio lo scorso sabato ed attualmente inagibile. Potrebbe quindi esserci l'ipotesi del dolo dietro il ruogo che ha coinvolto il complesso adiacente all'ex Fatme. E' in via di preparazione anche l'ordinanza di interdizione del sindaco De Prisco che sarà seguita da un nuovo sopralluogo dei tecnici dell'ufficio urbanistica. L'area dovrà essere messa in sicurezza. Saranno diffusi nei prossimi giorni non appena disponibili i risultati delle attività di monitoraggio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli effetti ambientali dell'incendio che ha interessato un deposito nel complesso industriale ex Fatme a Pagani. I tecnici del Dipartimento di Salerno, allertati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel corso del primo sopralluogo hanno identificato tra il materiale combusto la presenza di carta, cartone, plastica e barattoli metallici. I tecnici ARPAC sono tornati sul posto per ulteriori approfondimenti sul materiale presente nel deposito. Il fumo generato dalla combustione ha raggiunto un'altezza dal suolo di circa 20 metri disperdendosi in direzione sud-ovest, coerentemente con la ventilazione prevalente. Dopo le opportune valutazioni tecnico-logistiche è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti atmosferici già nella notte tra il 18 e il 19 giugno, con il posizionamento di due campionatori, una pompa ad alto flusso e una pompa a flusso costante, e di due campionatori passivi nei pressi del sito dell'incendio per la rilevazione delle concentrazioni in atmosfera di un set di inquinanti, comprendente di ossine, furani PM10, metalli pesanti e acido solfidrico. L'ARPAC in via precauzionale ha consigliato ai cittadini residenti in prossimità della zona interessata dell'incendio di non consumare ortaggi e frutti delle coltivazioni attigue fino a nuova indicazione. Ancora ignote le cause dell'incendio, indagano i carabinieri che hanno prelevato anche i filmati di videosorveglianza.